La malaciorta si abbatte nella vita di un uomo e non ci sta niente da fare, non ci sta niente da fare. Ehi c'è un po' che ma? Ehi c'è un po'. Siamo bella che sto facendo una cosa seria. È un periodo della mia vita dove proprio camminiamo, anzi a sfortuna mi corre a presa. Camminiamo a braccio, io a sfortuna, a sfortuna e io. Ehi c'è un po' che ma? Ehi c'è un po' che ma? Ma come si può fare? Io gioco un terno, gioco un terno che l'ho giocato da trenta anni. Sammartino mi ha scordato e lo io qua e è asciutto. Tutti e tre i numeri, una reta nata a Napoli, dodici, ventiquattro e trentatré. Tutte le mie speranze! E che vuoi fare? Ah! 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 Che re? Dallucce! Che a me mi dà l'indallucce, come ha processo cosa? E il detergente per il tavolo? E mi dà l'indallucce a me, è imbecilo, credi? Ma che l'ha già fatto? A posto! E come pure in fa? Una posto pure in fa? Hai già fatto, pulizzi? Che fai? Le cose importanti le fai solo tu? Che vuoi tutto dal gioco? Le cose importanti sono queste, sono le faccende domestiche che io devo sbrigare e tu ingombri, ingombri la stanza. Devi dare un'indallucce davanti a un'ottica mia, perché chi l'ha tutta me la dice casa? Come si può fare? Come si può fare? Io con questo dovevo risolvere tutto. Le mie sfortuni sono assai. E vuoi che non so chi? E vuoi che sono 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 chi? Che re? Che poteva pure chi la dice? Non ci vedo più. Non ci vedo più. Non ci vedo più. Non ci vedo più. Ti puoi pulire la mappa, non ci vedo più. E che re? Ma bruci pure la mappa? Oh, chi li ci sono divertiti a capicire questa roba? Ma non mi è uscito pure il bollo in capo. Aspetta. Ehi, non più. Chiara, chiara, mi hai fatto una sciatata in capo che se tenevi sinici i capelli me li hai bruciati tutto in sinici. Guarda, mamma mia. Insomma, tu vuoi tutto dal gioco? Hai perso? Non ti preoccupare, mamma, ma... Piuttosto, ti tengo che fa. Si è fatto tardi, ma tu non ti devi un matrimonio. Io ti vedo che stai ancora per la casa, stai ancora vestito così. Tu vuoi metterlo vestito perché ha fatico un matrimonio? Eh, che lo stiamo aspettando che diciamo? Il matrimonio? Eh? La gente che cammini andò a sfortuna presa. Perché? Il matrimonio doveva essere la soluzione del piatto nostro oggi a tavola. Eh? Lo so battuto lo sposo e lo sposo, capite? Dall'altare non si sposano i ciori. Lo sposo che si è pagata giro, 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 si è pagata giro. Ah, beublica, non se tratta, non sai vedete? Che succese? Mi sono attento a mangiare которая forte la ciodonia, non si faccia più madre a morire, Aspettiamo abbiamo dopo di avereусo a succedere stamattina. Salvo questa sera, per эффetti piazza. Siamo peramoci, della paglia, per aprire un mercato di taglione. Di maria. Di maria. Di maria stasera. Di maria stasera? Dici che stasera vieni a ciove, tu a stridire, ciove la peste non si fa, tu che dici che ciove? Dici che no? Tu dici che no? E certo che non ciove, ma perché come schiari orne, c'ha? Certo, comunque pare che non senti ciove. Io non sento né lampi e né tuoni, non vedo niente. Speriamo che non ciove. Teniamo?